Ancora buonasera direzione a catena, i grintosi da ACI Reale sono la nuova squadra campione e adesso provano a prendere l'ultima parola. Giochiamo tutti insieme partendo da interno, PR, O finale e il terzo elemento. Prego. Pronto? Pronto. Chiamare pronto, ti vuoi chiamare l'interno? L'interno. Primo? Pronto. Pronto soccorso, sì. Primo? Primo, interno. Pratico? Pratico, ok, prato, 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 qualunque parola compara. Presto? No, presto. Diciamo parole. Presto? Pratico, l'abbiamo detto. Pronto l'abbiamo detto? Pronto l'abbiamo detto? Sì, qualcosa all'interno. Tipo racchiuso? Promesso? Promesso? Proprio, proprio parola, dai. Proprio, proprio interno, che è sinonimo, proprio, qualcosa di interno. Primato? Primato, ok. Prestito? Prestito, prestito interno, ci sta pure. Sto pensando di prenotato, prenotato, pranzato, pranzo, pranzo. Piaggio, maschile, pranzo, pranzo. Preparato? Preparato? Preparato interno. Tipo qualcosa degli organi. Esatto. Primario, primario. Primario interno. Gong? Ok. Giulia, volete acquistare o provare? Acquistiamo il terzo elemento. Ok. Allora dimezziamo, resta altissimo, Montepremi, 51.500. Scopriamo il terzo elemento. X. X. Problematico. X è un incognito. Eh, esatto, se è quello, interno, privato, io direi pronto. Pronto, X. Per, per, prodotto, prodotto interno e X è prodotto. Prodotto, prodotto. Federica. Prodotto. Prodotto. Per, per, è interno, prodotto interno. Sì, sì, non c'è tutto. Ci proviamo, dai. Bravissima, è grande. Allora, Giulia, quale parola vi giocate? Prodotto, perché è il prodotto interno. Togliete prima le cuffie. Sì, sì. Togliete prima le cuffie. Allora, prodotto. Prodotto, perché è il prodotto interno, l'ordo, per esempio, è un parametro che si utilizza in economia e la X è il simbolo per indicare un prodotto in matematica. Per la moltiplicazione. La moltiplicazione, sì, esatto, sì. Sembrate molto sereni, molto tranquilli. Sì, siamo felici. La parola vi piace? Sì, siamo sicuri. Poi magari non è qua. Pregustate già i 51.500 euro? No, ma ci proviamo. Giuseppe è più prudente, più scaramante. Voliamo a bus. Sì. Beh, fantastico, dai, sì. La parola di stasera che lega interno e X del valore di 51.500 euro è... È il prodotto! È il prodotto! Oh, io là! Incredibile! Al debutto! Che facessimo! Gio! 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 Eh! Ehi!